Allora, Matteo, abbiamo scritto insieme una canzone per Sara. Certo. Chi è Sara? Quella che mi porta qui in cooperativa alle nove. Alle nove puntuali? Sì. Quindi? Ti porta la mattina tutte le mattine? Sì. Ed è brava Sara? Brava, certo. Sì. Mi preparo e scendo alle nove puntuali Lausate del giù ne è come un paio a la fissane Allora, Quina, Shale, e Sara, è su noi Sì. Mi preparo e scendo alle nove puntuali Paio, paio, salai, nello be martinai Paio, paio, salai, nello be martinai Paio, paio, salai, nello be martinai E non per martinai Ma non per martinai E non per martinai E non per martinai Woohoo!